Continuo la lettura della mia versione del Do-Ko-Do di Musashi, reperibile in e-book. Numero 7. Che gli altri agiscano bene o male, non invidiarli. Numero 8. Non rattristarti del commiato, di una separazione. Numero 9. Nel rapporto con gli altri, non provare rancore e non recriminare. Numero 9. Nel rapporto con gli altri, non provare rancore.